Oggi l'innovazione in azienda è importante per crescere ed essere competitivi. La Camera di Commercio di Torino ti accompagna in questo percorso con servizi mirati. Attraverso le reti europee di cui facciamo parte puoi cercare o proporre le tue tecnologie e trovare partner all'estero. Favoriamo questi scambi anche attraverso i B2B, giornate di incontro faccia tra aziende di paesi diversi, spesso nell'ambito di fiere settoriali. Se sei una startup o un'azienda innovativa in crescita e cerchi finanziamenti per i tuoi progetti, ti accompagniamo nell'orientamento ai bandi europei, promuoviamo incontri con i finanziatori, ti facciamo partecipare alle selezioni dei maggiori venture capitalist. Grazie all'utilizzo di metodi internazionali valutiamo la capacità innovativa della tua azienda e ti aiutiamo a gestirla al meglio per farla crescere in modo rapido e solido. Individuiamo insieme a te la strategia di marketing digitale più adatta alla tua azienda e, grazie alla collaborazione con Google, lavoriamo al tuo fianco per organizzare incontri ed eventi formativi con le migliori realtà a livello internazionale. Innovazione significa anche brevetti, marchi e tutela delle tue idee. Da noi troverai professionisti e consulenti a tua disposizione per un'assistenza individuale e mirata e siamo anche attivi nella lotta alla contraffazione. Ti aspettiamo per far crescere la tua impresa!